Questa mattina verso le 9 sono venuto qui nell'orto, ho trovato il cancello aperto, la serra aperta e la serra di ferro con il lucchetto spaccato. Hanno portato via dieci cassette per le raccolte delle olive, hanno portato via la benzina e la nafta che uso sia per il trattore che per l'altro il desespogliatore e poi dagli altri giù, quelli dei camion hanno rotto un vetro al camion, a una macchina e hanno tentato di portare via la benzina. Al vivaio, sempre lì di fronte, hanno rubato la nafta dal camion tagliando i tubi dell'acqua per aspirarla. Al mio amico di fronte qui gli hanno portato via due taniche, delle cassette di vuote naturalmente per le raccolte delle olive e della benzina. Abbiamo fatto la denuncia ai garabinieri, i garabinieri sono venuti, hanno guardato laggiù sia il vivaio che il camion, venivano qui, però qui non ci sono visti ancora. Non so se possiamo fare la denuncia perché loro non vogliono che si entrano in caserma per fare la faccenda del Covid. La cifra non è molto, ma è tutta la cosa, il fatto che li spaccano tutto, devi rimettere il lucchetto nuovo, la serratura nuova, le cassette devi ricomprarle, i danni non saranno molti per ognuno, però è consistente.